Da New York a Salerno, la voce di Shana Steele ieri sera al modo ha fatto viaggiare gli spettatori tra le atmosfere dei club della Grande Mela. Un viaggio in note che la Steele ha riproposto affiancata da Dave Cook al pianoforte e Brian Cocker a Malbasso. Lei, vocalist di Mobigeon, Legend, Rihanna e George Clinton, guarda con interesse alla musica italiana e dai suoi interpreti. Le piacerebbe cantare con una cantante, ad esempio con Giorgia o altro cantante italiano? La sua voce è molto familiare, naturalmente farebbe un duetto con Giorgia. I prossimi appuntamenti della Rassegna Live firmata alla direzione artistica da Gaetano Pappacena sono lunedì 6 febbraio con David Riondino, voce e chitarra, e Paolo Damiani al violoncello per un omaggio alla letteratura italiana. Il 20 febbraio, Ray Mantiglia, lunedì 5 marzo, Teresa De Sio. Per maggiori informazioni www.modoristorante.it